Dove andiamo? Questi li becchiamo di nuovo? Qui si sono andati vicino a Stendo Qui sono anche la sirena e non ho paura di nessuno No vabbè Non è normale quello che hai fatto Sì, qui sono una sirena nella finestra senza uomo C'è il camion Ah va bene allora Boh Vabbè andiamo dagli altri Madonna Non c'è niente No no tranquillo Questa la salviamo 37 minuti e 13 No Questa va su TikTok Io sono la sirena e non tengo paura di nessuno E si butta in acqua Grande Zeno E io lo mandiamo a Denza domani mattina Ciao